Il Pescara lavora per riportare in Italia Alberto Aquilani, il 32enne centrocampista romano e l'ultima idea è anche qualcosina di più del Delfino. La rottura con il suo attuale club, i portoghesi dello Sporting Lisbona, ha convinto i biancazzori a provare l'affondo per il Principino. Cresciuto nelle giovanili della Roma, alle spalle di Daniele De Rossi ha attraversato dal 2004 in poi il gota del calcio italiano. Ovviamente prima con i giallorossi, della prima era Luciano Spalletti, poi l'esperienza oltremanica, non proprio fortunata, con il Liverpool. Il ritorno in Padre in prestito prima con la Juventus e poi il passaggio in rosso-nero con il Milan. La nuova giovinezza con la Fiorentina, tre stagioni, 81 presenza e 13 reti prima di emigrare di nuovo in Portogallo. Il Pescara ha avviato i contatti col giocatore e avrebbe già pronta l'offerta di un contratto di due anni per dare quantità ma soprattutto qualità alla mediana. Perché l'arrivo di Aquilani sarebbe davvero un gran colpo in attesa di vedere come verrà completato il reparto. Calde ancora i nomi di Gnocuri e Grassi. In difesa invece, oltre all'ungherese Guzmic, ci sono sviluppi sulla vicenda Gjomber. Il difensore della Roma è stato escluso dalla lista dei 23 nomi per il preliminare di Champions League contro il Porto. L'ulteriore arrivo di Vermalen gli chiude ulteriormente una strada che sembrava comunque già sbarrata. Il Delfino lo aspetta per rinforzare la retroguardia. Oggi intanto, giù il velo sulle nuove divise per la prossima stagione nella massima serie al Marina di Pescara. Proprio poche ore prima dell'amichevole contro la Vastese neopromossa in Serie D. Domani sera invece alle 20.30 la presentazione ufficiale della squadra, che magari non vendrà ancora la rosa completa. L'importante è che lo sia per lo start del campionato. Il Delfino Il Delfino